I giudici della Corte d'Appello di Salerno accolgono la richiesta di rinnovazione del dibattimento relativamente al processo che vede imputato l'ex sindaco di Eboli Massimo Cariello. La richiesta era stata avanzata dai difensori del politico, gli avvocati Cecchino, Cacciatore e Costantino Cardiello, per acquisire in originale la traccia audio proveniente dal Trojan che aveva intercettato Cariello e il dirigente del comune di Cava dei Tirreni, Francesco Sorrentino, in merito ad alcune pressioni fatte dall'ex primo cittadino di Eboli per un concorso pubblico. Intercettazione che, secondo il Tribunale, costituisce prova fondamentale della corruzione tra i due. Gli avvocati difensori di Cariello hanno motivato dicendo e dimostrando che agli atti, oltre a non esserci l'originale, mancano da sempre dei progressivi e i relativi minutaggi, in modo da rendere incerta la ricostruzione dell'episodio. La Corte ha accolto la loro richiesta e ha chiesto al Procuratore Generale ad acquisire, ovunque si trovi, l'originale dell'audio, disponendo una nuova audizione dell'ufficiale di PG che procedette all'ascolto. Il processo è stato poi rinviato ai primi mesi del prossimo anno. L'ex primo cittadino ebolitano fu condannato a quattro anni e quattro mesi per corruzione e da due anni per abuso d'ufficio relativamente alla delibera ad hoc per aumentare l'indice di edificabilità di un terreno di proprietà dell'imprenditore caseario La Marca e dal concorso pubblico indetto dal comune metegliano. Grazie a tutti.